Io ti fermerò! Dimmi quando vuoi cominciare! Stai facendo tutto questo per niente. Far parte dell'impero renderà la terra migliore di quanto non sia mai stata. Esse invece resistono. È per questo che siamo qui. Per impedirgli di resistere. Per mostrargli quanto sarebbe sbagliato, quanto sarebbe inutile. Possono far parte di qualcosa di più grande. O morire. Non te lo permetterò. Vuoi morire per questo pianeta? Va bene. Cosa saranno mai altri 17 anni? Posso sempre ricominciare da capo. Generare un altro erede. E vai! Che stai facendo? Se proprio devo guardare questo gioco, avrei una migliore visuale dall'alto. Sai che questo non puoi farlo. È già strano che stai qui come se non ti interessasse. Vieni a sederti. Questa è una perdita di tempo per tutti. Ci sono tantissime altre cose che potrei fare adesso. Vai, Mark! Oh! Non lo perderai così. Guarda, Mark. Primo strike! Tu e io abbiamo fatto lui. È nostro. Quando lui prova gioia, la proviamo anche noi. Vedi quello sguardo sul suo volto? Come puoi guardarlo e non provare la stessa cosa? Secondo strike! Più invecchiamo e più diventa difficile riuscirci. Il peso del mondo ci rende più insensibili. Bel colpo, tesoro! Ma i nostri figli ci ricordano le gioie della vita. Questo ci riporta indietro nel tempo, ci mostra il senso dell'esistenza. Questo significa essere umani. Sì! Sì! Vai, Mark! Forza, Mark! Vai, vai, vai! Vai, Mark, vai! Forza, figliolo, puoi sorgere! Vai, Mark, vai! Salvo! E poi! Hai visto, papà? Hai visto? È stata fantastica! Sì. Sì, ho visto. Dannazione! Dannazione! perché mi hai costretto a fare questo? Ti stai battendo per assistere alla morte di ciò che ti circonda! Pensaci, Mark! Tu sopravvivrai a ogni fragile e insignificante essere di questo pianeta! Vivrai per vedere questo mondo sbriciolarsi in polvere ed essere spazzato via! Ogni cosa e ogni persona che conosci sarà scomparsa! Che cosa ti resterà da qui a 500 anni? Tu, papà, con me ci sarai tu! Che cosa ti resterà da qui a 500 anni? Che cosa ti resterà da qui a 500 anni? Che cosa ti resterà da qui a 500 anni? Che cosa ti resterà da qui a 500 anni? Che cosa ti resterà da qui a 500 anni? Che cosa ti resterà da qui a 500 anni? Che cosa ti resterà da qui a 500 anni? Che cosa ti resterà da qui?